allora buongiorno benvenuti alla rassegna stampa di oggi domenica 19 febbraio quali sono i temi di questa giornata ovviamente il tema fondamentale di questa giornata non può che essere il pd dopo una settimana di pantomima e mi dimettono mi dimetto mi scindono mi scindono oggi probabilmente si arrivati al punto finale cioè alla scissione dell'atomo alla scissione del pd diciamo che oggi la rassegna stampa anche per mancanza di altre informazioni oggi c'è praticamente nulla anzi la cosa straordinaria che fino a poco tempo fa c'era un governo e quindi si giudicava il governo adesso c'è un partito il pd e quindi si giudica il partito il governo non si sa più che fine abbia fatto che cosa sta facendo se sta facendo qualcosa di buono o di male non si sa più nulla e questo dipende ovviamente dalle personalità al governo ma anche dalle personalità nel pd andiamo avanti andiamo per ordine oggi ci dovrebbe essere un congresso non è un'assemblea del pd che deve vedere scusatemi se accettare le condizioni della minoranza che poi è fatta da emiliano speranza d'alema bersani gente che non potreste neanche bendati la minoranza ha fatto delle delle ha delle pretese e il renzi deve accettare figuratevi un po voi se l'arrogantello accetta qualsiasi pretesa ieri c'è stato un gran casino perché renzi non telefonava d'emiliano poi l'ha chiamato immagino un po come per fonzi chiedere scusa l'ha fatto ha chiamato emiliano ma questo non è servito figuratevi oggi che cosa possa avvenire ma i punti oggi di sintetizzabile il corio della sera in un colonnino ci sono 6 7 pagine sulla scissione del pd che ancora non è avvenuta negli ultimi 3 4 giorni su tutti i quotidiani guardate questa zuppa di porro diffondetela perché basta quella la sintesi che vi faccio io in 3 4 minuti per capire quello che c'è non per chi io sia bravo ma perché sono del tutto inadeguati giornali che hanno plate di giornalisti 20 giornalisti che provengono dal pd provengono dall'unità provengono dalla sinistra che sono incistati su questa robetta qua del pd pensate un po voi se la stessa cosa venisse fatta non so sulle sparate di brunetta che un giorno sì un giorno no vuole non so che tutto il centrodestra si unisca da alfano a storace se si vedesse il capello in realtà non c'è nessun giornalista di forza etaria in giro e in questo invece è diverso per la sinistra che ha formato centinaia di giornalisti che quindi si esercitano nello spaccare il capello nella scissione del pd tre fondamentali questioni le pone il corriere della sera e le pone bene in un in un colonnino basta leggere quello invece che le cinque pagine si divide il pd per la data del congresso cioè un partito si divide per la data del congresso tra l'altro io penso che in questo renzi abbia ragione prima glielo chiedono poi non lo vogliono poi poi lo vogliono presto poi lo vogliono tardi ma si può scindere un partito per un mese 30 giorni di prima o dopo il congresso secondo motivo perché si scindono per compi più serio se andare al voto prima della fine della legislatura o dopo qualche mese come sembrava tutti richiedessero a renzi terza cosa il la minoranza vuole una conferenza programmatica sono quelle cose che piacciono alla sinistra che noi umani ben non riusciamo a conoscere da una parte c'è come nota qualcuno di voi bandiera rossa dall'altra parte c'è gli ex democristiani il pezzo migliore oggi sulla questione della scissione del pd lo scrive lina palmerini sul sole 24 ore perché ragiona perché è semplicemente fa due più due lei dice e scrive il paradosso sapete qual è il paradosso di questa decisione del pd è che chi lascia il pd emiliano bersani eccetera sono quelli che vogliono a tutti i costi che il governo duri fino alla fine della legislatura e dunque qual è il paradosso che chi lascia il pd perché vuole che il governo duri vuole che duri un governo che è un governo fotocopia di quello di renzi con la boschi lotti con lo stesso impianto del governo renzi alfano e questa è la cosa paradossale cioè se ne vanno dal pd per tenere in piedi un governo il cui il pd oltre a essere maggioranza il pd di renzi sostanzialmente ne ha fatto l'architrave insomma la palmerini dice una cosa talmente ovvia che in un mondo in cui tutti guardano il capello secondo me è la cosa più intelligente da scrivere oggi scalfari fa un pezzo di cento righe e parte citando la to baggi che a sua volta cita mosse to baggi una giornalista come per grazie ricevuta è una incapace di dare avere un'idea originale se non questa specie di roba dei salotti colti che devono citare l'intellettuale ebreo appassionato di nice insomma già era noioso leggere la to baggi ma leggere scalfari che cita la to baggi che a sua volta cita mosse è come suicidarsi collettivamente insomma come fare il pd ve lo sconsiglio non è male invece oggi travaglio che furbescamente anche se oggi il 19 febbraio dice ma caso sono passati proprio tre anni da quel 21 febbraio in cui renzi era nel pieno del fulgore in cui arrivava palazzo chigi giurava con la lista dei ministri peraltro ricorda molto bene travaglio un'altra cosa sintomatica e cioè che all'epoca il governo renzi fu sostanzialmente fatto anche da napolitano che pretese ad esempio che andasse la giustizia a orlando uno di quelli che vuole scindersi perché non voleva garatteri che invece era la nomina che pensava ma giustato caratteri renzi e poi non voleva la boschi in questo vinse renzi e non voleva paduan non voleva scusatemi tabellini che il più grande economista italiano rettore della bocconi che renzi voleva un tecnico invece napolitano da buon comunista voleva un uomo di d'alema come paduan insomma racconta come napolitano fece il governo renzi e oggi si celebrano i tre anni con un renzi completamente diverso interessante a questo punto notare come la verità che titola hanno fritto renzi non mi ricordo se il libro la verità hanno hanno titolato su hanno fritto renzi ricorda proprio la verità il fatto che il padrino di renzi e di fini di fini ricordatevi anche di fini sia stato napolitano il famoso napolitano il peggior presidente della repubblica che abbiamo avuto e che quei geni di forza italia hanno rivotato per la seconda volta geni geni hanno rivotato napolitano il nostro peggior presidente della repubblica che ha fatto da kingmaker per renzi ma la cosa più grave per fini me lo ricordo io quando la macchina del fango il giornale parlava di fini quello che usciva sul napolitano suo grande sponsor oggi sul corredo della sera aldo grasso parla della questione di fini ma in un pezzo incomprensibile non c'è una tesi voglio dire il vantaggio di aldo grasso e che comunque siccome il direttore del corredo della sera è uomo sano intelligente che conosce i giornali lo pone come fogliettone dei giornali e non fa quella minchiata che fa repubblica in cui mettono l'amaca di serra in prima pagina in alto che è una di quelle cose che uno c'è scritto errore blu perché come si fa a leggere un giornale con la prima pagina con con una roba sopra la testata è solo forse calabresi lo sa fare ma a parte la buona collocazione di aldo grasso oggi vi leggete il pezzo su fini dice la cognatite già un pezzo da quarta elementare e scritto forse in italiano perché in quarta elementare non lo scrivono in un italiano senza errori ma insomma veramente io non riesco a capire il senso di quel pezzo detto questo nessuno si ricorda del fatto che il giornale quando tirò fuori la questione di fini della casa di monte carlo fu svillaneggiato da tutti quanti a proposito italiano apre una parentesi la chiudo io quando faccio questa segna stampa parla un italiano piuttosto rudimentale mettiamola così alcuni di voi me lo scrivono su facebook accetto le critiche perché ovviamente faccio un errore dietro l'altro ieri che cosa ho fatto qualcuno di voi ha detto che ho usato un transitivo invece che un intransitivo commetto degli errori basta chiusa la parentesi mi scudo in italiano un po così l'ultima cosa che voglio di cui voglio parlare è la rubrica della concita de gregorio quando ha fatto lo scuppettino si fa per dire su fedez perché fedez non firma gli autografi a chi si presenta in fila senza il suo disco ma con un pezzo di carta cioè se compri firmo se non compri il miliardario con rolex il comunista con rolex non firma complimenti a fedez quello che querela tutti quanti noi giornalisti a quel lato purtroppo è ottenuto anche un rinvio giudizio per farci una cosa che io trovo incredibile vedremo giudizio ma comunque fedez non firma questo lo tira fuori concita de gregorio coloro che non comprano il disco bene ognuno è generoso a modo suo ma la cosa bella oggi di concita de gregorio e finalmente siamo arrivati al concitismo è che cita la madre di una delle ragazze che mi sembra siano state arrestate o fermate per gli scontri di bologna sulla biblioteca in cui sono stati messi tornelli grande preside sono stati messi tornelli davanti alla biblioteca una di queste ragazze faceva parte dei collettivi è stata fermata non so che e la madre si è detta orgogliosa la madre dice è la seguente cosa sto con mia figlia contro i contro i giovani che sono che vogliono essere ridotti a passivi consumatori di università aziende e biblioteche banche la mamma di questa persona fa la neuropsichiatra dell'età evolutiva ci dice la de gregorio ecco io questi genitori che difendono questi figli sono quello che secondo me rende questo paese ancora un paese comunista nel senso tecnico del termine comunista cioè se una madre oggi con una certa cultura deve dire che noi con un tornello normalmente che si deve mettere normale normale in un luogo pubblico per farlo fruire nel modo migliore possibile rendo l'università azienda e le biblioteche banche beh insomma allora io ho capito che c'è un pregiudizio tale nei confronti dello sviluppo del mercato di quello che sta avvenendo allucinante e la de gregorio ovviamente difende la madre dice io avevo un po contrario a queste madri che difendono tutti i costi figli ma quando ho sentito questa frase importante le università azienda e le biblioteche banche ho capito che ha le sue ragioni no non ha nessuna ragione le ragioni c'erano gli studenti che vogliono studiare in quella biblioteca e questi deficienti dei collettivi secondo me dovrebbero essere messi al galera non c'è bisogno di mettere in cacciati a calci nel sedere dei luoghi pubblici va bene cacciati a calci nel sedere anche con la forza pubblica così come io non posso occupare un negozio una biblioteca un albergo eccetera quella è roba nostra vale più di una proprietà privata quella è proprietà privata del pubblico e sgarbi la la de gregorio tutti loro che la penso diversamente secondo me sono di una cultura comunista comunista infine lo stadio di roma la raggio ovviamente c'era da scommetterci salta sopra il vincolo paesaggistico il vincolo architettonico di uno stadio quello fatto dalla fuente nel 1960 che è disastrato fa schifo finalmente oggi ci accorgiamo che esiste che è importante proprio per non fare la cementificazione vabbè direi direi che siamo a posto allora tutti impiegati che hanno i cartelli insomma ci siamo ci siamo i commenti vostri adesso stanno arrivando vi do un saluto vi auguro una buona domenica noi ci vediamo come sempre domani con la zuppa di porro cercherò e ricordatevi che questa zuppa di porro la potete vedere anche su youtube nel mio canale di youtube a cui tengo molto perché la qualità è forse superiore rispetto a quella che potete vedere qua su facebook un grande abbraccio e ci vediamo domani ciao